Siamo a Sant'Elpirio Mare e stiamo partecipando, ci apprestiamo a partecipare ad un convegno sulla Garofanada, antico vitigno autottono marchigiano, iscritto a registro dopo l'Unità d'Italia, successivamente abbandonato dai viticoltori, quindi riscoperto dall'insegne enologo marchigiano, professor Bruno Bruni, verso la metà del secolo scorso. Successivamente ancora oblio per questo vitigno, fino ad oggi, quando per iniziativa dell'Assam l'ente che si occupa di servizi e supporto e sperimentazioni in agricoltura per la regione Marche, all'interno di un progetto volto alla valorizzazione della biodiversità regionale, si innesta la riscoperta di questo antico vitigno Garofanada. Grazie. 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 Grazie.